Ciao da Avsim! Pare un nuovo positivo nella Juventus e si tratta di un giocatore che proviene dal ritiro della nazionale italiana e quindi diciamo che non ci sono molte alternative, molte possibilità, cioè o è Chiesa o è Bernardeschi. E quello che si vocifera in queste ore e c'è anche una prima pagina di Corriere dello Sport di oggi, di questo 6 aprile, che parla appunto di un nuovo positivo e che si tratta naturalmente di un calciatore italiano. C'è un nuovo positivo all'interno della Juventus ma si parla specificamente del focolaio della nazionale italiana, quindi non stiamo parlando di un giocatore che appunto ha un'altra nazionalità ed è andato magari a giocare con la propria nazionale da un'altra parte. E' ancora un altro strascico di questo focolaio della nazionale che si è creato tra la partita con la Bulgaria e quella contro la Lituania. Da escludere naturalmente Chiellini perché Chiellini ha giocato solo contro Irlanda del Nord che è stata la prima partita che si è giocata in casa a Parma e poi è tornato a Torino quindi si è messo in salvo così come qualcun altro che appunto per problemi fisici non ha fatto tutto il ritiro della nazionale. E quindi siamo saliti a quanti? E facciamola conta perché erano 4 i componenti dello staff risultati positivi e adesso siamo arrivati a 6. Poi il risultato positivo Bonucci, il risultato positivo Sirigu anche in questi giorni dopo aver giocato contro la Juventus nel derby sabato e quindi c'è anche questa problematica da capire se magari il contagio può essere avvenuto in campo nella partita o appunto fosse pregresso perché se era giocato, se era stato insieme con gli allenamenti anche nella nazionale e poi c'è anche Cragno come altro giocatore della Serie A che è stato annunciato dal Cagliari mentre per quanto riguarda altri italiani che poi giocano all'estero abbiamo già riscontrato la positività di Florenzi annunciato dal Paris Saint Germain, di Grifo con il Friburgo e anche di Verratti. Quindi è veramente una situazione drammatica nel senso non dal punto di vista della salute perché prevalentemente parliamo comunque di atleti in buona salute, asintomatici come è capitato praticamente sempre nel mondo del calcio e dello sport si tratta solo di stare in isolamento quelle circa due settimane e poi si torna pienamente perfettamente all'attività agonistica però è una situazione che proprio per quanto riguarda lo svolgimento delle partite, lo svolgimento del campionato per quanto riguarda i protocolli, per quanto riguarda la profilassi, per quanto riguarda la tutela comunque della salute di certo non è una situazione molto felice, anzi è veramente una situazione ma più che drammatica che fa anche rabbia perché si è fatto tanto un parlare dei protocolli appunto della tutela della salute, del non poter giocare ricordate quanto si è discusso un anno fa sulla ripresa della Serie A mentre la Bundesliga era partita la Liga e la Premier volevano partire prima e meglio di noi perché bisognava tutelare la salute dei calciatori ed evitare che i calciatori potessero essere veicolo di contagio questo da parte della Lega Serie A ma da parte della FIGC con tutte le chiacchiere, facciamo i playoff, il calendario di qui di là poi alla fine chi è? Chi è che proprio è l'esempio negativo in Italia e che crea danni a tutte le altre società italiane e non è proprio la FIGC perché chiaramente se si è verificato un focolaio all'interno di un gruppo squadra in questo caso ma vale per qualunque altro contesto lavorativo e anche sociale evidentemente non sono state prese le adeguate misure, questo è ovvio perché per fortuna per avere il contagio da questo virus c'è bisogno di una certa visinanza fisica e di non utilizzare delle protezioni per cui se si mantengono le distanze e si utilizzano le protezioni è difficile che ci sia veicolo di contagio è vero che stiamo parlando di uno sport di contatto ma come stiamo vedendo ormai da mesi non a livello italiano ma a livello internazionale quando vengono rispettate le regole al massimo si verifica un caso, due casi cioè casi isolati che magari non sono neanche sorti all'interno dello spogliatoio, del campo ma al di fuori per un incontro privato, per un fatto di amicizia e di frequentazione oppure per un caso estemporaneo e quasi non coincidente invece quando abbiamo più casi, a questo punto abbiamo superato abbondantemente i 10 tra staff e giocatori evidentemente non sono state prese tutte le misure ed è la stessa cosa che io dissi riguardo al Genoa e che abbiamo potuto dire adesso anche per esempio per quanto riguarda il Torino prima, Sirico adesso si aggiunge dopo che il Torino aveva già risolto quell'altro focolaio perché è di tutta evidenza logica poi è chiaro che dovrebbero esserci degli organi di giustizia sportiva che facessero applicare e rispettare il protocollo i protocolli che sono stati firmati e che dovrebbero appunto essere in vigore ma vediamo che invece le autorità sanitarie e quelle della giustizia sportiva intervengono ad intermittenza e questo non è ben chiaro, come mai? e devo ritornare allora a parlare di quello di cui avevo parlato prima di questa giornata perché che cosa avevo detto dopo la positività di Bonucci che tra l'altro fronte Juve sarà giunta già a quella di Demiral ora vediamo se sarà confermato Bernardeschi come molte indiscrezioni giornalistiche stanno riportando da ieri sera e nella notte questa mattina che cosa avevo detto? che la giornata di Serie A non si doveva giocare non si poteva giocare e che tutti dovevano prendere esempio dal Sassuolo com'è possibile che c'è una società saggia che si regola da sola per evitare problemi mentre tutte le altre non sono obbligate a comportarsi in quel modo perché possiamo elogiare il Sassuolo quanto vogliamo ma se poi tutte le altre società si sentono libere perché non hanno nessun input dalla parte della Lega Serie A o della FGC a fare diversamente libere appunto di continuare di riaggregare sostanzialmente i giocatori che provenivano dalle nazionali senza tenerli da parte per evitare il contagio allora poi che cosa succede? che il contagio si propaga e che però nel frattempo si è giocata una partita si è giocata una partita per ciascuna di queste squadre si sono fatti gli allenamenti e quindi c'è stata una vicinanza e potrebbe essere scoppiato qualche altro focolaio all'interno di altre squadre o comunque i casi potrebbero propagarsi e con nel frattempo altri allenamenti altre partite quindi è chiaro che il Sassuolo ha fatto la cosa giusta saggia prendendo Ferrari e Locatelli e dicendo voi non rientrate adesso nel gruppo squadra siete negativi vi monitoriamo se poi passate un tot di giorni in accordo con i nostri sanitari magari anche con l'autorità sanitaria del posto potete rientrare perché siete sostanzialmente negativi e non c'è più pericolo di veicolo del virus allora rientrate e vi utilizziamo nello specifico adesso c'è Inter Sassuolo che si recupera domani insieme a Juventus-Napoli dobbiamo parlare ovviamente anche di Juventus-Napoli perché quando poteva capitare una situazione del genere prima di Juventus-Napoli questo è karma anche chi non ci crede cioè questo è scontato le cose devono andare esattamente così quando si fanno delle forzature si fanno delle cose storte perché Juventus-Napoli del 4-8 e quanto di più storto si è esistito nella storia recente del calcio italiano quantomeno è evidente che poi ci sono queste conseguenze in questo caso conseguenze negative per la Juventus ma la Juventus è tra tutte le altre 19 società della Serie A ha tolto appunto solo il Sassuolo che ha fatto questo ragionamento saggio che non ha isolato quelli che provenivano dalla nazionale italiana cioè da un focolaio ora io voglio capire ancora una volta perché quando c'era il focolaio nel Genoa il Napoli era legittimato ad essere timoroso dall'andare in campo e l'ASL poteva bloccarlo perché il Napoli era un potenziale focolaio che poi alla fine solo due rimasero positivi come giocatori e cioè Zilischi e Delmas quindi non ci fu nessun focolaio mentre adesso quando questi giocatori italiani vengono dal focolaio della nazionale italiana non c'è ASL che intervenga non c'è blocco che venga applicato non c'è limite non c'è provvedimento si gioca tranquillamente con la Roma che di italiani ne aveva 4 al momento 0 positivi l'Inter 3 al momento 0 Lazio 3 al momento 0 Napoli 3 al momento 0 Juve 3 al momento 2 cioè appare sia rimasto fuori solo Chiesa che si è salvato salvo per ripeto vedere se poi con gli allenamenti e la partita successiva non sia stato non sia avvenuto anche qualche altro contagio anche tra gli stranieri perché non è solo un discorso italiano poi c'erano anche Sassuolo 2 che li ha tenuti fuori Atalanta 2 finora 0 Torino 2 1 è risultato positivo e cioè Sirigu ma all'altro sostanzialmente Belotti mi pare che l'avesse già avuto quindi tra l'altro di recente Milan 1 che è Donnarumma ed infatti c'è apprezzione in questo momento proprio per la positività di Cragno e Sirigu quindi tra portieri era più facile che anche Donnarumma sia stato esposto appunto Cagliari 1 su 1 e questi erano gli italiani delle squadre italiane ora come è stato possibile non intervenire su quella giornata che si è fatta prima di Pasqua di sabato scorso da parte della FGC rinviandola in blocco oppure dicendo immediatamente come stava facendo il Sassuolo tutte le società italiane che hanno calciatori italiani di rientro dalla nazionale li devono isolare e non li possono utilizzare perché non è stato fatto questo e veniamo allora a Juventus Napoli che finalmente a quanto pare si gioca domani domani 7 aprile dopo 11.000 rinvii l'ultimo dei quali dal 17 marzo colpa di Agnelli no perché poi questi miei video sul campionato falsato le ASL vengono visti molto dai tifosi delle altre squadre che poi mi criticano mi contestano nei commenti e io leggo e dico ma questi qui hanno capito mi rendo conto che molti commentano senza aver ascoltato tutto quello che ho detto ma neanche la maggior parte di quello che ho detto e quindi mi viene detto ma tu non dici che la Juve a giugno non faceva i tamponi con la tempistica regolare ed è stata sanzionata come non lo dico ci ho fatto un video poi ho detto anche che la stessa cosa la stessa infrazione era stata riscontrata nella Roma mi pare nel Parma in un altro club con delle multe che sono state applicate perché fondamentalmente si trattava di un formalismo quindi non di una grossa irregolarità non sono stati mandati in campo positivi all'epoca per quanto riguarda questa violazione eh ma tu parli di campionato falsato perché sei juventino poi la Juve perde e quindi è colpa del rinvio di Inter Sassuolo ma scusate ma vi rendete conto della stupidità di questo discorso e purtroppo lo fanno anche dei divulgatori cioè ridere dopo che la Juve perde col Benevento dicendo eh voi volevate avete detto che il campionato è falsato per il rinvio di Inter Sassuolo ma sono due cose diverse io posso dire per anni ininterrottamente che il rinvio di Inter Sassuolo ha falsato la lotta a Scudetto ed avere pienamente ragione in questo e la Juve può perdere per anni sono due binari completamente separati non c'è nessuna correlazione ma se qualcuno deve tornare all'elementari non è un mio problema e quindi se io sto qui a parlare di campionato falsato ma figuriamoci io sapete quanto critico la Juve quanto me la sono presa con Agnelli appunto ma tu parli di rinvio di Inter Sassuolo campionato falsato però sul rinvio di Juventus Napoli dal 17 marzo al 7 aprile non hai detto niente e mi dispiace non guardate i miei video allora se non sapete che cosa ho detto e che cosa non ho detto non mi potete contestare cosa non avrei detto perché invece l'ho detto io sono stato molto aggressivo nei confronti della decisione di Agnelli e De Laurentiis già per il solo fatto che Agnelli si sia messo d'accordo con De Laurentiis per il rinvio di Juventus Napoli dal 17 marzo al 7 aprile sono andato su tutte le furie e ne ho dette di tutti i colori quindi andate a recuperare il video se ve lo siete perso e quindi siamo già alla cosa più patetica ridicola di questa situazione con l'esito che è Juventus Napoli 4 ottobre gli indisponibili della Juve erano 4 Rabiot squalificato che poi Rabiot è stato squalificato doveva essere squalificato una partita se ne è fatte due perché saltò la Fiorentina perché interviene la sentenza del collegio di garanzia del CONI e quindi nell'incertezza fu messo fuori per evitare per evitare il 3-0 a tavolino contro la Fiorentina abbiamo perso 3-0 sul campo a quel punto lo mettevano lo facevano giocare ma qual era il problema e poi precauzionalmente perché non si sapeva qual era l'applicazione della regola anche contro l'Udinese e quindi mancava Rabiot e poi c'erano infortunati Alexandro, Bernardeschi e De Ligt quindi erano 4 il Napoli aveva fuori Insigne infortunato e Zilischi ed Elmas positivi adesso ad oggi a stamattina la Juventus ha Demiral, Bonucci e un altro che dovrebbe essere Bernardeschi positivi quindi fuori e il Napoli ha solo Goulam quindi il Napoli ha recuperato due due infortunati due indisponibili senza contare che comunque Goulam è purtroppo per lui fuori dai giochi col Napoli da molto tempo quindi non è neanche un'assenza significativa che pesa in questo momento è un'assenza marginale rispetto ai titolari mentre la Juve deve rinunciare a due difensori che già è un'assenza specifica pesante di cui uno sicuramente è titolare come Bonucci e forse anche ad un altro giocatore che non è titolare come Bernardeschi ma che è molto utile sperando che con tutto il rispetto speriamo che non sia nessuno ma purtroppo uno c'è e tra i due è chiaro che il tifoso preferisce non sia Chiesa perché Chiesa è in questo momento della stagione fondamentale per la Juve è uno dei pochi che gioca veramente quindi è chiaro che nessuno vuole il male di Bernardeschi però se proprio deve essere uno dei due a livello di impiego in campo premesso che debbano stare comunque bene è chiaro che il tifoso Juventino medio preferisca non sia Federico Chiesa mi sembra di essere di dire una cosa scontata nel rispetto di tutti senza volere il male di nessuno e quindi sebbene la Juve abbia un indisponibile in meno ha comunque tre indisponibili e comunque due in più rispetto al Napoli a mesi di distanza e si tratta comunque di positività ora che cosa dovrebbe fare l'asle di Torino quello che fece l'asle di Napoli l'altra volta con la differenza che la partita si gioca a Torino e che quindi l'asle di Torino potrebbe pure dire non si può giocare perché come a livello territoriale non si può proprio disputare la partita come ha fatto l'ATS di Milano per Inter Sassuolo che cos'è un pericolo un pericolo focolaio non c'è in questo caso un pericolo focolaio perché Inter Sassuolo è stata vietata dall'ATS e non è stato dato ovviamente il 3-0 a tavolino ma si rigioca domani mentre l'asle di Torino dovrebbe dire no ok possiamo giocare Juventus-Napoli questo veramente ci fa capire quanto le istituzioni questo è il problema perché poi non è una lotta tra Juventini e Interisti a gridare al campionato falsato si tratta di osservare delle situazioni che sono palesi sono oggettive le istituzioni latitano a livello calcistico e sportivo in Italia in questo lungo anno travagliato e in questa stagione di calcio di Serie A in particolare si sono applicate le regole a singhiozzo ad intermittenze in maniera contraddittoria in maniera imprevista e imprevedibile un po' come capitava la giornata di Serie A scorsa non si sarebbe dovuta disputare e a questo punto la situazione sarebbe stata uguale probabilmente perché se Bernardeschi ed è Bernardeschi l'ha preso in nazionale l'ha preso prima Bonucci era già tornato che l'aveva preso così come pure De Miralle quindi non sarebbe non sarebbe cambiato nulla non giocando la partita però almeno avremmo evitato forse un ulteriore elemento di irregolarità di questo campionato di irregolarità di questa Serie A e magari altri rischi ma siccome è stato detto tante volte che la salute viene prima quando la Serie A era ferma la salute veniva prima con gli stadi chiusi la salute viene prima rinvio Juventus Napoli la salute viene prima chiudere in albergo quelli dell'Empoli per Napoli Empoli di Coppitalia la salute viene prima Inter Sassuolo la salute viene prima poi quando invece veramente c'è un pericolo sanitario perché c'è un focolaio chiaro evidente tutti quanti spariscono sono andati a fare Pasqua non si sono interessati di questa cosa la Serie A si è giocata e adesso non c'è più la salute che viene prima a quanto pare quindi Juventus Napoli si gioca a quanto pare vedremo quali saranno le ulteriori notizie ma io vorrei dire agli interisti l'Inter ha strameritato lo scudetto fino a Inter Sassuolo per me fino a Inter Sassuolo e quindi comunque l'ha strameritato poi per me Inter Sassuolo ha falsato la lotta scudetto perché l'Inter avrebbe potuto giocare una partita in condizioni di gravi indisponibilità e magari avrebbe perso punti a vantaggio magari del Milan e non della Juve perché la Juve figuriamoci ma quale lotta scudetto ormai da mesi la Juve non è più in lotta scudetto però questo non vuol dire che questo campionato non sia falsato e questo campionato è falsato almeno dal 4 di ottobre e non per colpa della Juventus poi ci sono anche delle responsabilità della Juve ma in origine no se vogliamo dare le colpe a qualcuno trovandoci un po' tutti d'accordo le diamo alla FGC e alla Lega Serie A e anche al CONI perché è chiaro che sono loro i grandi assenti che hanno fatto danni in questa stagione grazie per l'attenzione buon dibattito nei commenti soprattutto tra chi ha avuto la bontà di ascoltare prevalentemente quello che avevo da dire non fermandosi alle prime parole mettete like al video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale attivando le notifiche per i prossimi contenuti ci vediamo molto presto e sempre forza Juve grazie a tutti